Ha preso il via oggi a Rapallo una nuova fase degli interventi di rimozione degli yacht affondati o spiaggiati a seguito della mareggiata del 29 ottobre scorso. L'associazione di imprese Visonda ha infatti avviato le operazioni di livellamento del fondale nei pressi della foce del torrente San Francesco al fine di creare una corsia per poter rimuovere le oltre 100 imbarcazioni ancora affondate o incagliate sugli scogli. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco punta a una completa soluzione del problema intropasqua anche se gli interventi risultano piuttosto complicati sia dal punto di vista tecnico che da quello burocratico a causa delle definizioni necessarie con le assicurazioni chiamate in causa dai proprietari degli yacht. Stando ad alcune stime non ufficiali i danni alle imbarcazioni da di porto sarebbero attorno ai 700 milioni di euro e non tutte le pratiche con le assicurazioni sono state portate a termine. Fino ad oggi delle 400 unità affondate o danneggiate ne sono state rimosse 225. Grazie. Grazie.